Benvenuti in un'altra sfida estiva, sfida mondiale, sfida per punizioni, chi avrà il piede più fatato lo scopriremo in questo video tutorial dei nostri amici, alla prossima linea allo studio. Grazie del lancio a Kimi, oggi vedremo un po' i professionisti del pallone, chi arriva a tre ovviamente vince, un panettone. Questo è il di sinistro. In queste challenge faccio schifo. E adesso farò un buco grande così alla parte di Matteo Piccara. Beh, ci riprova di sinistro. Piccola la porta. Certo, andiamo a colpo la porta. Non può passare di sotto, non ce lo sto. Ragazzi, salgo. 1-1-1 ragazzi, incredibile. Ciao, ciao! Non si sono dietro Ancora un migliore Questo è il 2 a 1 Scritto Capara! Attenzione! Tu mi sa un anno non mi sponda 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 Prendo La parata La parata Attenzione ragazzi Totti sul pallone E del tiro Gol! Non vale Non vale Però Interessante se fossero valse le sponde Vediamo se Matteo Pincarazzi Andrà per il pareggio Sì Pure nooo Andrea Kimi si scusa Si scusa con Dio Lo dedico a tutte le opere che ci seguono Che gran gol da Che gran gol da Mi sponda Tattolo Mi sponda Mi sponda Mi sponda Super E'яли That tight E' dei Signore il video finisce qui Ha vinto a Kimi con delle punizioni, direi magistrali. Magistrali. Io non vedevo, vedetelo la barriera, era più alta di me. Suggerirteci qui sotto che challenge, sfide calciistiche o sportive, potete vedere sul canale. E basta. Bella. But you don't know.